Salve a tutti e benvenuti finalmente ad una nuova recensione, mi devo innanzitutto scusare con il tempo, perché è passato un pochino di tempo, ma purtroppo è andata persa la mia ultima recensione per un problema tecnico al computer, per cui dovrò rifarla, ovviamente non verrà da schifo come la prima volta, ma verrà ancora più da schifo, ma comunque insomma toccherà rifarla, e anche perché è un film a cui tengo tantissimo, per cui ho deciso proprio di rifarla. Vi ricordo che appunto le mie recensioni sono dei monologhi liberi, quindi non ho un vero e proprio copione da seguire e non mi scrivo il testo, quindi diciamo che rifarle in questo contesto è ancora più difficile, però insomma i punti generali li ho fissati in testa e quindi con l'aiuto della memoria si va avanti. Il film di oggi in questione è un cult, e direi che per questa categoria non ci sia bisogno di spiegare la definizione, e vorrei inaugurare proprio questa rubrica con un film a cui tengo tantissimo, un film appunto che mi è molto a cuore, che è Operazione Paura, in italiano il titolo in inglese sarebbe Kill, Baby Kill, un film del 1966 di Mario Bava. Questa sarà una recensione abbastanza particolare, per un fatto molto insolito, e cioè che mentre nelle scorse recensioni il tutto partiva dalla sceneggiatura, quindi dal racconto della trama, e poi da lì si dipanavano tutta una serie di punti con cui io approfondivo le motivazioni per cui quel film andava visto, o perché quel film era in quella determinata categoria, eccetera. Invece in questo film io non voglio dirvi la trama, ma voglio invece parlarvi di, diciamo, metacinema. Cos'è l'argomento metafico? È l'argomento che parla di cinema, ecco, metacinema vuol dire attraverso il cinema, cioè il cinema che parla del cinema. Alla fine di questa recensione capirete cosa intendevo dire. Quindi tutti i punti che elencherò in questa recensione in realtà non sono inerenti tanto alla trama, ma quanto a una particolare caratteristica del cinema di Bava, che questo film, diciamo, le dimostra tutte e le esplica tutte, e attraverso proprio queste caratteristiche io voglio fare una riflessione su come si dovrebbe fare il cinema horror, o in generale comunque come si dovrebbe fare un certo tipo di cinema, o meglio di cinema teatro, perché non solo faremo metacinema, ma anche metateatro. Robe molto complesse, insomma, più o meno. Perché effettivamente Mario Bava è un regista che si è formato poi prettamente nell'ambiente teatrale, e dunque è dal teatro che poi proviene il cinema, no? e soprattutto il cinema di Bava, come poi altri film degli anni 50 e del film degli anni 60, provengono proprio dalle tecniche registiche del cinema, scusami, del teatro, proprio perché il cinema era comunque un'arte che ancora era in divenire e che ancora stava costruendo il proprio linguaggio. Il passaggio dal teatro al cinema è come effettivamente il cinema in questo caso diventa un'opera d'arte teatrale. Andiamo a vedere i punti in questione e poi capirete. Il primo punto è le ambientazioni. Il film è chiaramente un film che si inserisce nel filone gotico. In quegli anni andava molto di moda, insomma, il filone gotico cimiteriale e questo film è proprio così. È ambientato in un villaggio pseudo-medievale dove sostanzialmente il paesaggio che si vede maggiormente sono o delle case abbastanza decrepite, piene di ragnatele, oppure il cimitero del paese che trasuda di nebbia, questa nebbia finta che appunto pervade tutte le lapidi, scusate, pervade tutte le lapidi fino a giungere proprio all'occhio dello spettatore. E già qui si vede la finzione, perché Mario Bava butta all'interno di queste scenografie praticamente la finzione, perché si vede che sono puri cartonati, che la nebbia è, sono delle macchine del fumo che spruzzano appunto il fumo e che tutta la scenografia, almeno la maggior parte della scenografia costruita, è palesemente finta. Ma questo non è una cosa negativa, come diremmo oggi, ah ma si vede che è finto. No, è una cosa volutamente fatta apposta per giocare con la finzione, perché in poche parole Mario Bava vuole giocare con lo spettatore, vuole farlo immergere nella pura finzione scenica, perché di fatto questo film dobbiamo vederlo come se fosse un'opera teatrale e come tale occorre anche analizzarlo, perché quanto noi per esempio andiamo a vedere un'opera teatrale, siamo nel senso consapevoli che tutto ciò che vediamo è finto e in primis ci salta all'occhio proprio la scenografia, che è una scenografia ovviamente fittizia, che risalta molto per esempio la frontalità molto spesso, o comunque se c'è una tridimensionalità è una tridimensionalità abbastanza fittizia, cioè siamo noi poi che con la nostra fantasia ricostruiamo un po' il realismo di questa scenografia. E la stessa cosa accade qui in questo ambiente profondamente gotico, in cui diciamo tutte le cartonati inseriti nel terreno, la nebbia è palesemente finta, cioè tutto ci proietta lo spettatore proprio all'interno di un'opera teatrale, un'opera teatrale che vuole rappresentare una fiaba gotica, perché di fatto tutto il film è una fiaba gotica. E quindi lo spettatore deve essere immerso, deve poter essere immerso all'interno di questo gioco che registra, crea con questa opera teatrale barra cinematografica e già nelle prime scene, quindi con questa scenografia, noi sostanzialmente veniamo immersi in un mondo fittizio, in un buon mondo che vuole giocare con noi, così come le fiabe poi giocano effettivamente con noi. Secondo punto, le luci. E qui tocchiamo probabilmente uno dei fulcre di questo film. Ho già parlato della questione luci nella monografia dedicata a Dario Argento, soprattutto nel film Suspiria e Inferno. Perché? Perché in genere, e dobbiamo ricordarlo, Mario Bava è stato maestro di Argento, di Lucio Fulci e anche per esempio è stato ispiratore per film come Pulp Fiction di Quentin Tarantino, quindi parliamo di un maestro che ha fatto assolutamente scuola non solo nella cinematografia italiana ma anche poi all'estero. Ecco, è evidente che Dario Argento assuma, così come Lucio Fulci assumano qualche tecnica proprio da Mario Bava. Perché Mario Bava nei Switch Film, che sono in realtà poi per la maggior parte opere teatrali, parla di come si fa il cinema. È questo che intendo con Metateatro o in questo caso Metacinema, cioè parlare effettivamente di come si realizza un film però fatto all'interno di un film. E vediamo ora la questione delle luci. Perché ricordiamolo, è una fiaba gotica. E anche le luci devono dare l'idea dell'illusione, devono giocare un po' con lo spettatore. E di fatti siamo catapultati in un mondo onirico, in un mondo profondamente visionario. Perché di fatti le luci non sono assolutamente naturali. Vediamo dei contrasti fra luci rosse, blu, verdi, giallo, gialle. Cioè tutto un mondo di finzione. E anche a teatro, se noi pensiamo ai riflettori, che appunto per la maggior parte sono gialli, blu, verdi, rossi, vediamo proprio con quali tecniche gioca una favola gotica queste tonalità molto oniriche, visionarie, irreali. Ecco perché sono parte di un mondo profondamente irrazionale, è chiaro che sono assolutamente geniali. Sono un'idea geniale. E se poi noi abbiamo capolavori come Suspiria, ecco, lo dobbiamo soprattutto a Mario Bava e a questa sua intuizione geniale di fare del cinema una grande scena teatrale in cui giocare con lo spettatore, ripeto, e soprattutto farlo immergere in questo mondo anche un po' infantile, dell'irrazionalità, della fantasia. È proprio con queste luci che crea questo mondo soffuso. C'è una particolare scena molto bella quando il protagonista, che è un medico legale, che è stato chiamato dal capomastro, capoborgo del paese per fare insieme all'ispettore di polizia un'autopsia su un corpo, giunge alla fine di una serie di vicende legate a maledizioni e stregonerie e varie, giunge all'interno di questa villa Grapps, che è la villa, diciamo, come vi parlerò nel punto finale, che racchiude tutto un po' il senso della storia, è la villa che, vi ripeto, ora chiudo il centro della storia. Lui sta camminando in questo corridoio e questo corridoio è formato da due pareti laterali dalle quali spuntano delle braccia fatte di armatura che tengono delle candele e tutto poi è illuminato con queste luci profondamente realistiche e il protagonista cammina in questo lungo corridoio, ovviamente si vede che è finto, con queste braccia, questi candelabri profondamente gotici, macabri, che illuminano in maniera visionaria e onirica la scena. E questo è il mondo infantile, il mondo fiabesco di Mario Bava. Punto 3. Le inquadrature e la scena della scala. Allora, altro modo, ovviamente molto particolare, sono le inquadrature di Mario Bava, perché anche le inquadrature devono essere teatrali, cioè in qualche modo Mario Bava vuole che lo spettatore, lo spettatore di un'opera teatrale, capisca che l'autore si voglia soffermare con quel particolare, si voglia soffermare in quel preciso particolare in quel preciso momento. In genere, in teatro, si utilizza molto spesso la tecnica dell'occhio di bue, e quindi per esempio oscurare tutti i personaggi, puntare un faro sul personaggio rimanente che recita il suo monologo. Questa è, diciamo, una delle tecniche più impiegata. Come fa Mario Bava a trasportare questa tecnica teatrale all'interno del cinema? Lo fa attraverso l'uso geniale delle inquadrature. Perché in questo film, quanto Mario Bava si interessa nel voler rappresentare un particolare, nel focalizzarsi, cosa fa? Avvicina profondamente la telecamera con questo gesto e si focalizza su un particolare, in questo caso la mia bocca, e poi torna indietro. E lo fa in una maniera repentina, in maniera appunto veloce, tanto da anche lasciare stupito lo spettatore, perché appunto la finzione che poi deve creare fantasia deve anche stupire, deve poter stupire, perché è dallo stupore che poi si crea la meraviglia, è dallo stupore che poi rimaniamo profondamente affascinati dalla favola gotica, e appunto da tutto questo mondo fantastico nel quale ci troviamo immersi. E proprio queste inquadrature che continuano a fare avanti e indietro lasciano spiazzato lo spettatore e continuano a catapultarlo proprio in un mondo profondamente fantastico, irrazionale. Perché poi il teatro molto spesso è anche un mondo appunto fictizio, irrazionale, nel senso che gioca con lo spettatore, gioca di finzione. La scena delle scale. La scena delle scale è un esempio magistrale di come questa tecnica viene usata proprio per, come dire, disorientare proprio lo spettatore e, come dire, renderlo folle. Perché in fondo questo film è anche un film di follia, è un film che parla, come vedremo, di una maledizione, quindi che vuole radicare un'idea folle nella testa dello spettatore. C'è una scena in cui il protagonista, sempre in Villagraps, deve scendere una scala, che è una scala chiocciola tipica, un po', no, dei castelli gotici, di queste... ma elicoidale. Perché si sa che la forma elicoidale della scala chiocciola è anche poi in illusione ottica. Fa parte di un mondo magico, di un mondo illusionistico. Ed ecco che Mario Bava, per rendere questa illusione concreta ai nostri occhi, fa in modo di girare con la telecamera intorno alla scala. E quindi anche noi, come il protagonista, siamo catapultati all'interno di questa forma elicoidale e quindi siamo immersi in questa spirale di follia che porterà poi alla stessa follia sia il protagonista sia noi spettatori. Appunto, ripeto, sono tutti espedienti cinematografici barra teatrali che Mario Bava utilizza nel suo film per parlare di come si dovrebbe fare cinema, anche in maniera un po' ironica, perché in fondo queste tecniche molto spesso, soprattutto per esempio nelle ambientazioni fittizie, con queste lapidi finte, finte fanno sorridere, oppure anche queste inquadrature un po' così spesso potrebbero portarci a fare sorridere. Ma Mario Bava è anche una persona profondamente ironica, autoironica, ma queste tecniche, oltre al sorriso, ci fanno capire anche la genialità con cui Mario Bava affronta proprio il mondo e il modo di fare il cinema. Ripeto, il modo e il mondo del cinema. Altro punto è la bambina. In questo film è presente una bambina, che è uno spirito, come vedremo nell'ultimo punto, uno spirito chiamato dal passato. E in Mario Bava troviamo, diciamo, una delle prime rappresentazioni un po' topiche della bambina horror, cioè tutta vestita di bianco, espressione cadaverica. Ma qual è qui, diciamo, il punto interessante? Anche qui, se noi prendiamo un'opera teatrale e osserviamo, insomma, come dire, un certo protagonista tipico, come nel film Mauro potrebbe essere un fantasma, per esempio nel teatro, prendo a prestito il teatro latino, soprattutto la commedia, in realtà sia latina che greca, per esempio il personaggio della meretrice oppure del vecchio. Ecco, come venivano rappresentati? Indossando delle maschere in cui i tratti caratteristici erano soprattutto nell'espressività del volto, soprattutto negli occhi. Stessi... E proprio in questo modo fa Mario Bava, cioè concentrandosi soprattutto sugli occhi, sullo sguardo, che trasuda paura. Lo sguardo è talmente penetrante da ipnotizzare lo spettatore. E questa bambina è fortemente caratterizzata, quasi proprio avesse una maschera tipica proprio del teatro greco e romano. Per esempio c'è una scena in cui questa bambina sta entrando in questa casa, ma prima di entrare si sofferma sulla finestra e si vede questa bellissima scena in cui si vede proprio la finestra. Prima si vede l'ombra della mano, poi compare l'ombra, poi a un certo punto... e poi compare la mano, poi a un certo punto si vedono gli occhi della bambina e poi compare tutta la bambina completamente inespressiva. L'unica parte espressiva sono gli occhi che ti guardano come se ti scrutassero la testa, come se ti scrutassero il centro del tuo cervello e ti fanno cadere in una spirale di terrore. E questo espediente del fantasma è davvero una trovata geniale di Mario Bava. Ultimo punto è un po' la morale e dunque un po' la storia. Non vorrei fare la trama, ma un piccolo accenno vorrei farlo perché voglio parlare un po' della morale di questo film. In sostanza parla di un medico che appunto arriva in questo paese per fare un'autopsia al cadavere e scopre che in realtà questo paese è preda di una maledizione. Una maledizione che è stata fatta dalla vecchia che abita a Villa Grapps perché la sua figlia che era Melissa Grapps il fantasma di cui vi ho parlato nel punto precedente durante un giorno di festa ha avuto un malore e i concittadini insomma i paesani poiché erano ubriachi non l'hanno soccorsa. E lì dall'odio che scaturisce dal cuore di questa donna ormai anziana è quella di rievocare poiché lei ha poteri da medium dal passato la bambina. Qual è dunque la morale di questo film? È una morale assolutamente interessante perché ci parla di quanto sia folle di quanto sia irrazionale il sentimento dell'odio perché è assolutamente inutile perché è assolutamente inutile anzi è nocivo per se stessi rievocare i fantasmi del passato perché in fondo la bambina Melissa Grapps non è altro che una metafora è un fantasma metaforico è proprio esattamente la metafora del fantasma metaforico è proprio esattamente la metafora del fantasma del passato che viene revocato perché per l'odio perché si odia quello che è successo nel passato e questo film oltre a essere una stupenda favola gotica vuole anche lanciare un messaggio assolutamente forte un po' ecco anche qui ripreso dal mondo del teatro soprattutto quel teatro di Daskalico soprattutto la tragedia che vuole poi lanciare un messaggio forte perché un po' questo film elabora alcuni meccanismi propri della tragedia e qui però il finale è allegro ma ripeto questo e la morale proprio di questo film è quella di andare avanti insomma il passato serve come base sicuramente ci aiuta a rielaborare un trauma ma noi non dobbiamo mai soffermarci sul passato e soprattutto mai dobbiamo rievocare un fantasma nel passato perché questo non è solamente nocivo per gli altri ma soprattutto per noi stessi detto questo non mi resta che appunto consigliarvi questo film perché è davvero interessante non tanto per la trama in sé quanto uno per il messaggio morale e due soprattutto per gli espedienti stilistici che Mario Bava utilizza per far capire lo spettatore appunto come si deve fare cinema e appunto Mario Bava attraverso questi espedienti riesce a trasmettere paura riesce a immergere lo spettatore nella profondità della follia e in una splendida favola gotica e detto questo io vi saluto e ricordatevi i fantasmi del passato vanno lasciati al passato arrivederci grazie 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 Grazie.